Buonasera e ben ritrovati. Vi parlo di cani questa sera e soprattutto del spiacevele fatto di quando si smarrisce un cane o il proprio cane. La prima cosa che è bene fare nel momento in cui smarrite il proprio cane è affingere vari cartelli con una descrizione del cane, meglio con una fotografia nel quartiere o nella zona in cui pensate il cane sia stato smarrito. Avvisate immediatamente le autorità, in questo caso sono la polizia locale della vostra zona e il distretto veterinario. Poi potete dedicarvi a un emittente locale in modo da fornire i dati necessari per un annuncio per cercare di ritrovare il vostro cane. Queste sono le prime cose fondamentali e importanti. Nel momento in cui invece ritrovate un cane fate immediatamente segnalazione sempre alla polizia locale all'ASL. Cercate di vedere se il cane porta un collarino o un tatuaggio. Diversamente i responsabili dell'ASL sono dotati di un lettore microchip e potrebbero risalire al proprietario proprio dal microchip che il cane dovrebbe avere. In questo caso si riferiscono a una banca dati regionale in cui trovano addirittura anche il numero di telefono al proprietario. Se tutto ciò non avviene potete anche tenere il cane presso di voi. Il proprietario lo può rivendicare entro 12 mesi. Diversamente se non avete la possibilità di tenerlo il corpo di polizia locale dovrebbe portarlo a un canile comunale locale e lì venire alloggiato. Vi do appuntamento a settimana prossima e vi saluto per questa sera. Arrivederci.